Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Bart Vanzetti, che vuole che parli del film del 1992, scritto, sceneggiato e diretto da Marina Ripa di Meana, ovvero Cattive Ragazze, con Eva Grimaldi come protagonista e più un'altra serie di personaggi e soprattutto Star di Panita Egber che mette tristezza in questo film, che penso sia una delle cose più brutte che il genere abbia mai visto e creato l'umano, proprio in tutte le sue forme artistiche, non, perché qui si tratta tutto tranne che di arte in questo film che è veramente osceno ed ha ricevuto un par di miliardi di soldi all'epoca dallo Stato e fece un grande scalpore perché fu un flop enorme, non c'è andò a nessuno, ma è chiaro, perché nella storia di questa donna, Alma, che ha divorziato, appunto Eva Grimaldi, che ha divorziato da poco, che praticamente gli viene mandato da alcune colleghe per farlo sta bene, questo diciamo così prostituto e spogliarellista, Brian, che però mentre fa il suo spogliarello praticamente viene interrotto da Millie, che appunto è Anita Egber, mamma mia, che l'ex socia era malata di mente appunto della nostra protagonista, che l'accusa di tutto insomma verso il figlio e li aver rirovinato la vita, mentre il figlio chiaramente è uno smiedellato che vive sotto tutto quello che gli dice la mamma, quindi i nostri due, Alma e Brian, decidono di partire in Harley Davidson per lì il Venezuela, uno perché devono lasciare perché ci sono dei criminali che praticamente vogliono la loro testa, per la nostra in particolare che è Millie comunque, e invece Brian è seguito dalla sua ex Marilyn, che insieme alla lesbica Nana e Amy, insomma sono due criminali e killer che vogliono inseguirli e quindi di lì partirà tutto quello che è, in realtà è un non film, a parlare di film mi pare eccessivo, una sciatteria completa, una sceneggiatura che definirla tale veramente mi sembra un po' eccessivo, non c'è niente, le scene erotiche sono da soft core, veramente di basso livello degli anni 80, si cerca di fare un film femminista che viene fuori maschilista, si cerca di dare forza alle spessore ai protagonisti, ma Grimaldi è giovanissimo e non regge minimamente da sola, ma è un film talmente brutto che non si salva niente, è una delle musiche terrificanti, un montaggio che non esiste, unico classici film di merda che proprio sono merda ma merda di quella che non si riesce ancora a capire come ha fatto a prendere soldi dallo stato e come ha fatto a essere distribuita, qui si parte come una commedia e si finisce come un thriller senza mai mai idea però di cosa sia il cinema proprio nelle sue basi, un montaggio che non funziona, una musica usata a cazzo di cane, una fotografia orripilante, un'idea appunto di questo rapporto fra uomini e donne che fa ridere veramente i polli e quando il film vorrebbe essere in un certo senso grottesco e fa ridere fa incazzare, quando vorrebbe essere thriller così fa incazzare il triplo perché ci vuole un'altra mano e quindi Marina Ripa di Meana che ha le critiche di questo film che tutti definivano una merda e hanno pienamente ragione col tempo è ancora peggio l'idea e diceva vedrete fra cinque anni o vincerò l'Oscar, infatti questo è il primo e ultimo film che ha fatto, guardare questo film fa veramente del male, tutte le recitazioni sono sconclusionate, quel Brian interpretato da Oreste Baldini è uno dei personaggi più scemi che il cinema abbia mai creato, Alma, mamma mia che spero insomma non si chiami così per dare un omaggio a Hitchcock e alla moglie di Hitchcock è insopportabile, è un altro personaggio che non si può mettere sulle spalle dei vagrimaldi che è buon amato di pare ma non riesce a spingere, ma il film non spinge nemmeno il pedale sulla violenza, nemmeno il pedale sul sesso, niente, tutto talmente abbozzato, tutto talmente brutto, tutto talmente inutile che veramente è una tristezza che ti cascano le palle, le braccia, gli occhi e anche la pelle, insomma è un film di quelli che ti fa ammalare guardandolo, fate un po' come vi pare, se volete dargli un'occhiata provateci, io non dico nemmeno dove è il link, non dico un cazzo questo film qui, mi ha messo solo nella tristezza, è un film che succhia l'energia vitale, succhia l'intelligenza e regala semplicemente veramente sporcizia che dove sta a casa sua, una delle cose più fetenti veramente che il non cinema abbia mai creato, questa roba qui andrebbe assolutamente insegnata nelle scuole per far capire come non si deve assolutamente mettere mai in scena niente, mettere in scena mi sembra anche una parola un po' troppo grossa per una regia, quella della Ripa di Meana che non esiste, donate su Patreon, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il pulsante sui grazie per donare direttamente su Youtube, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccia, giuro per l'Italia e ripeto è inutile che Marina Ripereana all'epoca dicesse no ma hanno sbagliato tutti, ho fatto un grande film, no mi dispiace, è un film completamente di merda dove non riesci nemmeno a salvare la verba di qualcuno che sappia recita, tutti incapaci a recita, Anita Egber mette veramente tristezza e la tristezza più grossa, ripeto che questa ha preso i soldi dallo Stato e che insomma alla fine è stato pure un flop e vorrei anche vedere e che non riesce comunque, questo film ammette nemmeno 10 secondi di fila che abbiano un senso filmico, la vera schifezza della schifezza della schifezza